Qual è la giostra più bella di Gardaland? Raptor è carina, alla prima discesa ti manca respiro ma dura pochissimo, voto 9. Jungle Rapids, niente di che, c'è sempre lo sfortunato che si bagna più degli altri. In fila mi hanno riconosciuto che è carina. Il Mammoth è bello da fare in compagnia. Attenti a non schiacciarvi, troppo la sicura mi stavo pisciando addosso. Torini! Cinema 4D lo si fa solo per la poca fila, voto 2. Lutornado, voto 6, per non rischiare un trauma cranico portatevi un cappellino. Fuga d'Atlantide è carina, iconica ma forse a tratti un po' noiosa. Sciamani invece da fare due volte di fila.